Grazie a tutti, ragazzi, un amore, grandissima sorpresa, il grandissimo Enzo, salvi per voi. Non l'hai detto mitico, però? Mitico, l'hai sotto il testo? Ah, così mi piace, tutto il testo. Perciò non c'è neanche bisogno di dirlo. Siamo qui alla conferenza stampa e do anche un invito e un appuntamento dal 12 novembre in matrimonio assurdo in tutta Italia e zona limitata. Diamo qualche chicca? Diamo qualche chicca, la chicca è che ci sono io, per cui si riterà sicuramente, perché se riterà va bene, io sono la vostra città. Ciao, matrimonio assurdo, salvatore grande, mitico Enzo, salve, ciao.